Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi Diciamo uno dei glitch dei soldi In seguito porterò anche un altro glitch per fare auto molto più in fretta che questo glitch Per fare questo glitch serve un amico Basta stare in una sessione solo a inviti Dobbiamo avere tutti e due lo stesso bunker Sia noi che il nostro amico E nel nostro centro operativo mobile dovremmo avere una LGR H8 normale Con questo glitch andremo a duplicare le LGR H8 Allora a questo punto noi entriamo nel nostro bunker e il nostro amico entra nel suo bunker E diventa presidente del Motorcycle Club ragazzi come state vedendo a schermo in alto a destra Una volta che è diventato presidente del Motorcycle Club Ci invita a noi Ovviamente manda un invito a noi per entrare nel Motorcycle Club Noi dobbiamo accettare questo invito E nel momento in cui a noi si farà lo schermo nero Il nostro amico dovrà dimettersi da Motorcycle Club Il passo è abbastanza semplice Non serve nessuna tempistica ragazzi Quindi lo potete fare tranquillamente Quando spawneremo Respawneremo nel bunker del nostro amico A questo punto che cosa dobbiamo fare noi Dobbiamo andare dove sta il meccanico E dobbiamo tenere selezionato come se stessimo modificando Mentre il nostro amico va nel retro del suo centro operativo mobile E fa entra con amici ragazzi Va per entrare nel suo centro operativo mobile E entra con amici E rimane nel centro operativo mobile Noi ci suicidiamo ragazzi A questo punto quando ci siamo suicidati ragazzi Spawneremo al porto Il nostro amico potrà uscire dal centro operativo mobile Andrà alla guida del suo centro operativo mobile E lo porterà fuori dal bunker ragazzi Una volta fatto questo il passo è abbastanza semplice Quindi il nostro amico porta fuori il centro operativo dal bunker Poi va su start Questo sempre il nostro amico ragazzi Online O troverà una nuova sessione O poi andrà in modalità creatore A questo punto il nostro amico non dovrà più fare nulla Invece noi che cosa dovremmo fare Andremo a richiedere la nostra LG che vorremmo duplicare Quindi andiamo a richiedere la LG che vogliamo duplicare E aspettiamo che Diciamo ce la portano Quindi aspettiamo il meccanico che ci porta la LG Vediamo dove cazzo l'ha messa Trovata Eccola qui ragazzi Quindi prendiamo la LG E una volta che comunque Diciamo abbiamo la LG che è pronta per la duplicazione Richiediamo il nostro centro operativo mobile ragazzi Quindi aspettate che io qui so salito ma Da sopra l'auto il centro operativo non lo fa richiedere Richiediamo il centro operativo mobile E saliamo in auto Vediamo dove sta Sta qui Perfetto Eccolo qui Quindi ci dirigiamo verso il nostro centro operativo mobile E entriamo dentro il nostro centro operativo mobile Ovviamente se abbiamo la LG ci dirà di sostituire Per questo dobbiamo avere la LG nel centro operativo mobile ragazzi Quindi a questo punto ragazzi Come avete visto Vedrete la schermata del bunker E poi rimarrete buggati Qui ci sono due soluzioni ragazzi Una è suicidarvi E l'altra è invece fare start online E andare in un lavoro da titano E spawnerete comunque fuori dal bunker Io in questo caso mi suicido Senza che sto lì a fare cose E mi trovo spawnato fuori dal bunker ragazzi Qui fuori dal bunker abbiamo la nostra LG Quella lì che comunque avevamo Quindi a questo punto ragazzi Dobbiamo rimandare il centro operativo nel bunker Andiamo comunque a prendere la nostra auto E a questo punto qui le soluzioni ragazzi sono due Nel senso che Io l'ho scoperto in seguito questo Però per velocizzare Potete diciamo Una volta che avete mandato il centro operativo nel bunker Il passo è abbastanza semplice Allora quello che faccio io adesso È aspettare Diciamo di poter richiamare il centro operativo Che sta nel bunker Quindi vado per richiamarlo E dopo un po' me lo portano insomma Quindi qui mi ha portato il centro operativo Io vado ad entrare con la mia auto Dentro il centro operativo L'altro passo più semplice invece È lasciare fuori l'auto dal bunker E entrare nel bunker Ovviamente Tirare fuori il centro operativo Mettere l'auto dentro E poi Continuare con il resto del glitch Quindi ragazzi avete queste due alternative Io come state vedendo Vado a cercare il mio centro operativo Perché comunque non lo sapevo L'ho scoperto dopo che avevo registrato il video Quindi vado nel mio centro operativo E ci metto l'auto I paletti li ho presi tutti Dopodiché ragazzi Quest'auto va in garage Dobbiamo andarlo a mettere in garage automaticamente Per rifare nuovamente il glitch Allora ragazzi Per rifare il glitch Se vi suicidate Dovete per forza cambiare sessione Se invece non vi suicidate Avrete comunque Potrete lavorare nella stessa sessione O comunque Se avete un amico Che vi sta dando una mano Gli dite di fare una sessione Solo amici E vi unite direttamente Senza star lì A dovervi invitare Ogni volta Quindi Questa auto Adesso l'andremo a mettere in garage Ragazzi Il glitch è fatto Questo è uno dei due glitch Questo Diciamo È quello che ho portato anche in live Però l'ho voluto fare anche in video E quindi Questo è uno dei glitch In seguito Vi porterò anche l'altro glitch Quindi Detto questo Spero che per quanto riguarda i glitch dei soldi Perché ho visto qualcuno che mi ha chiesto glitch dei soldi Spero che Per quanto riguarda i glitch dei soldi Vi ho accontentato Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Don't try this yourself It's extremely dangerous Ciao a tutti